Come li spenderai questi 500 franchi? Ma va che birra, tu porti a cena i casati, no? No, vi offro un mojito, dai. Due? Due facciamo. Uno sforzo importante per una vittoria importante, bravo. E li preparo io. Bravo, te lo sei meritato, bravo zio. Vai pure avanti con il mio amico, prego. Che ti facerebbe fare un viaggio, dove? Boh, sinceramente vorrei andare in Messico. Se avessi vinto 21.000 l'avresti usato per un viaggio in Messico, quindi? Sì, in parte sì, in parte sì. Altrimenti? Un'altra meta esotica? Mozambique. Insomma, come li spenderai questi 500 franchi alla fine? Vendo la cena con mia moglie e mio figlio. Ah, bene. Allora buon appetito. Grazie mille. Alla prossima. Ciao, complimenti. Grazie mille. Ciao, ciao.